Siamo con Tiziana Grassi, oggi parliamo di cultura, parliamo di economia. Di cultura si può vivere, si può creare economia e diciamo che la cultura è alla base dello sviluppo economico. Certo, la cultura è connessione tra sviluppo civile, sviluppo della persona e sviluppo anche economico di un territorio. Ecco perché io ringrazio anche Taranto Opera Festival che ha voluto invitare delle persone molto rappresentative del teatro dell'Opera di Roma, ma anche del Rossini Opera Festival, che ci dimostrano che con la cultura si può veramente avere una rigenerazione, una crescita, uno sviluppo e Taranto ha bisogno di credere sempre più in questo, così come anche nelle sinergie pubblico-privato. Ecco anche perché è importante la presenza di Lelio Miro, presidente della Banca di Taranto, cioè il ruolo anche del mecenatismo culturale. Ecco, questi sono momenti di cui Taranto ha bisogno perché sono enzima, sono trasformativi e soprattutto ci danno la consapevolezza che questa città viene dalla cultura, da millenni di cultura e può guardare al suo presente futuro sempre pensando e tenendo la barra dritta sulla cultura come motore di sviluppo individuale e collettivo. Anche con Tiziana Grassi stasera possiamo dire che ogni sera è una buona sera. Grazie, grazie a Taranto buonasera e grazie a te Matteo e a tutti i colleghi che veramente supportate questo percorso che stiamo facendo tutti insieme per la nuova narrazione di Taranto. Grazie Taranto buonasera. Grazie e buonasera. Grazie. Grazie.